Matteo, siamo a Ravenna, ti troviamo in un momento di relax tra i tanti impegni che hai. Iniziamo da un overview sulla tua stagione. Dove sarai impegnato o dove ti troveremo? Sarò impegnato con i vari Melges, con il 32 e il 24 soprattutto, con i quali sto facendo un programma abbastanza impegnativo per ambire a risultati con tutte e due le barche buoni, andare a provare a giocarci il mondiale con il 24 e cercare di mettersi un po' stabilmente tra i primi della flotta con il 32. Quelli sono i due programmi principali, poi farò un paio di regate con il Melges 20 ma sono più che altro per tenere caldo l'armatore del 32 con cui correrò sia sul 32 che sul 20. Entrando nello specifico partiamo da quella che è un po' la classe storica della monotipia in questo momento mondiale, il Melges 24. Io ho visto delle fotografie, letto di uso conti della trasferta negli Stati Uniti. C'è stato un ritorno tra l'altro in barca di Tiziano Nava. Ricordiamo tu sei con Blue Moon e a Miami c'era l'equipaggio, c'eri tu, Tiziano, Stefano Rizzi e poi? Sì, Stefano Rizzi, poi Flavio ovviamente che è Timona e Nicola Stalferro che è bravissimo. Sì c'è stato questo ritorno di Tiziano perché comunque ci faceva da coach, ha molte esperienze sul Melges 24, ci va da quando è nata la classe praticamente. Ci sembra un elemento importante anche per tenere un buon equilibrio all'interno della barca. Che flotta hai trovato a Miami? È stata una regata competitiva oppure era un discorso limitato? Voi chiaramente avete vinto o era un discorso limitato soltanto a qualche equipaggio di punta? No, forse era anche un po' più competitiva che a Key West che è dove abbiamo fatto terzi tra l'altro. C'era Wilmut, l'irlandè che correva con una barca irlandese che era molto veloce però non è riuscito a fare delle belle regate. E poi c'era Simoneschi che a Key West non c'era e altre due barche competitive che erano arrivate nei cinque al mondiale di Corpus Christi. Perciò erano cinque o sei barche buone di livello in America le abbiamo trovate. Poi ovviamente buone da giocarsi le tappe. Penso che ci sarà molto più livello in Italia, tutti gli americani faranno equipaggi nuovi, ho sentito lì a Miami per venire a fare il mondiale a Torbole dove ci si aspettano tante barche e sicuramente una delle più belle regate della stagione. Vedremo se sul lago ci staremo così tante barche però comunque il lago attira anche grossi numeri di barche da tutta l'Europa perché essendo centrale in un periodo di vacanze estive la gente è più propensa a venirlo a fare. Tra l'altro con Blue Moon non avete preso parte della prima tappa del circuito Volvo Cup però se ho sentito bene già da Lerici ritornerete nei ranghi della classe assieme ad altri team come quello di Alberto Bolzan il rientro dei grandi favoriti della stagione che si andranno poi ad unire i vari Little Wing e Altea che comunque ben figurato ha vinto a Cagliari. Sì sì sì, noi era da programma così, adesso stiamo aspettando la barca con cui abbiamo fatto Miami che l'abbiamo spedita per quello è stato il motivo principale per cui abbiamo saltato la tappa di Cagliari e adesso da Lerici in avanti saremo tutte le regate della Volvo Cup fino al Mondiale con qualche allenamento in più proprio in preparazione del Mondiale. Quindi Blue Moon si confermerà sicuramente come uno dei grandi favoriti della stagione passando invece al Maggiest 32 c'è un'altra volta rinnovato il tuo rapporto di collaborazione con Mauro Moccheggiani e quindi insomma sarai ancora alla tattica di rush e adiletta. Che stagione ti aspetti con questo Maggiest 32? Mi aspetto un po' una stagione, non dico di riscosso quasi, ma di fine di un lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso con una velleria diversa e vediamo se riusciremo a portare avanti questo lavoro, se ci darà risultati che abbiamo, degli studi che abbiamo fatto quest'inverno. Abbiamo cambiato un po' l'equipaggio e penso che ci siamo rafforzati parecchio soprattutto per cercare di avere un'evoluzione vele che poi potrà essere sia con la Norte che con le Monte Fusco. Ci siamo un po' più aperti a non avere vincoli con i velai e vogliamo solo cercare di fare del meglio. Penso che abbiamo lavorato molto bene quest'inverno, a parte un piccolo stop dovuto alla neve visto che il nostro armatore di Ancona e lì ce n'è stata tanta, però abbiamo lavorato bene e proviamo a vedere se riusciamo a essere competitivi e poter pensare di partecipare magari anche al Mondiale. Si dice sempre quando tra una regata e l'altra, tra una stagione e l'altra, si riflette sempre sul discorso abbiamo lavorato molto eccetera eccetera, nel vostro caso in effetti so che avete fatto diversi weekend di allenamento anche in tempi recenti, se non altro anche questo weekend scorso eravate ancora in acqua a provare e riprovare. A parte questo un'altra domanda che ti faccio è esattamente se ci puoi dire un po' su che cosa avete lavorato dal punto di vista delle vele. Abbiamo cercato di sistemare un po' i progetti che avevamo concluso l'anno scorso con l'inserimento di Nello Pavoni che penso che abbia un buon backup di tutte le vele, di tutti i Melges 32 sia Nord, Monte Fusco, altri tipi di vele che si possono vedere, ormai principalmente sono Nord e abbiamo lavorato molto su quello, abbiamo sistemato alcune robe, ci siamo un po' personalizzati delle vele sia Nord che Monte Fusco, faremo un piccolo mix, ci mettiamo su quello che ci piace. La stagione Melges 32 chiaramente sarà articolata sugli appuntamenti dell'Audi Serine Series e Sarai, già l'anno scorso c'eri nei Melges 20, però per quest'anno c'è un cambio di equipaggio, c'è una new entry. Sì, abbiamo deciso con la mia società, la Sail Pro, di comprare un Melges 20 in proprietà come socio del mio armatore del 32 Mauro Moccheggiani e andremo a fare qualche allenamentino e qualche regata e ci prepareremo un po' meglio per il mondiale di fine stagione a Napoli e quello sarà un po' l'obiettivo, però diciamo che è un po' la barchina per allenarsi per andare bene sul 32, che è quello che rimane l'obiettivo principale con Mauro Moccheggiani. Si va in tre sul 32, quindi ci starete tu, Mauro e? E Ale Franci, che fa il secondo teller anche sul 32, è un po' l'uomo di fiducia di Mauro da qualche anno e un po' il tuttofare dell'organizzazione di raccio di letta. Hai accennato nel corso di una delle ultime risposte alla società di cui sei presidente, che è Sail Pro. Partiamo da un overview di che cos'è Sail Pro esattamente. La Sail Pro è una società per dare servizio agli armatori che hanno voglia di ottimizzare un po' i costi e passare subito dal niente ad avere un'organizzazione in grado di gestirti un equipaggio di punta per le classi più importanti, soprattutto per quanto riguarda la monotipia, che possono essere dagli RC ai Mages 32, Mages 24, tutta la monotipia che c'è migliore che ora in giro. Abbiamo organizzato anche per degli armatori delle traversate oceaniche e abbiamo lavorato anche con armatori per quanto riguarda l'ORC. Penso che sia un buon sistema per appoggiarsi a una società che ti risolve i problemi e ti fa partire subito con idee chiari di spese e di risultati che un armatore può arrivare senza incappare in imprevisti o cose a cui una gestione non accurata può dare, quali spese impreviste, troppe spese per l'organizzazione troppo ritardata, una mancanza di addetti stampa, tutto. Diciamo che è una società che ti permette di affidarti a lei e non preoccuparti più di niente, a cui un grande imprenditore si può appoggiare per non avere nessun tipo di problemi su tutta la gestione per quanto riguarda una partecipazione a un circuito di legate. Oltretutto, mi dicevi prima dell'inizio di questa intervista, a Telecamere Spente, che le cose dell'anno scorso sono andate piuttosto bene, tant'è che quest'anno, sfruttando uno dei cardini dell'economia, dice che nel periodo di crisi bisogna investire, avete fatto degli investimenti in vista di questa stagione 2012? Sì, sono andate abbastanza bene l'anno scorso le cose, è una società che inizia a tirare fuori i suoi frutti, visto che è aperta dal quinto anno da quando abbiamo fondato la società. Iniziamo ad allargare un po' le nostre cose, cercare di dare sempre più servizi agli armatori, dal trasporto della barca, così si dispende ancora meno, perciò abbiamo acquistato anche un furgone. Abbiamo investito su una barca che pensiamo che sia quella in un periodo così di crisi, quella che potrebbe avere un po' più di partecipazione da parte degli armatori, abbiamo comprato un Melges 20 proprio insieme a Moccheggiani, come società, e questi piccoli investimenti, stiamo facendo molta pubblicità anche attraverso i siti, attraverso l'Uvai, per farci un po' conoscere anche nella nautica più da di porto, e direi che stiamo andando bene. Se riusciamo a stare su in anni di crisi così, siamo una società abbastanza sentita in giro, che non ha problemi di strutture. Parlando di progetti in essere, come si strutturerà la stagione di SailPro e su cosa state lavorando in chiave futura? Si strutturerà principalmente sulla gestione appunto di Rush di Letta, che è il 32, e poi abbiamo qualche equipaggio di Melges 20, da Farnetti a Capolino, alla stessa barca che gestiamo noi. Poi stiamo collaborando con equipaggi, anche con AFX, abbiamo collaborato perché comunque mandiamo atleti che gestiamo un po' come immagine, anche su barche non gestite completamente da noi. C'è Michele Gnutti, infatti, che è legato con AFX sull'RC44, e poi stiamo seguendo altri progetti per la Coppa America anche di Napoli, che mio fratello, che è uno dei soci, vivendo a Napoli, sta organizzando qualcosa anche per la Coppa America, per far seguire l'evento e conoscere la vela un po' ai neofiti, ai nuovi armatori. Stiamo collaborando per cercare di inserire delle barche nelle scuole vele, in modo da portare anche la vela a conoscenza dei bambini, della scuola vele, a quello che è un po' la base dell'iniziare ad andare in barca a livelli competitivi. Diciamo che ci muoviamo più su vari fronti e stanno andando abbastanza bene le cose. Incontrarti sui campi di regata, abbiamo capito, non sarà impresa difficile, ma per chi volesse contattare prima che si può SailPro, quali sono i canali da utilizzare? I canali da utilizzare, la cosa migliore su internet, abbiamo il sito su www.sailpro.it Semplicissimo, ci trovate lì, trovate i nostri contatti telefonici della sede a Brescia, trovate tutto.